Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio di Super Mario 64 Scusate per prima l'interruzione, ma niente, ho finito i minuti per registrare e quindi ne ho finito un atto adesso Abbiamo appena preso la seconda stella di cui vi stavo parlando, a questo punto, il secondo episodio ne prendiamo altro Quindi andiamo avanti Ok, invece adesso dobbiamo sparare nel blu, ma possiamo spararci nel blu Ok, per ora questo non ci interessa, è una strada che faremo più avanti con il guffo, che tra l'altro io detesto anche il guffo Ma questo è un altro discorso Adesso facciamo capire il cavolo di cannone Perfetto, ora ci andiamo avanti e ci spariamo Nel blu, come ho detto il titolo della stella Allora, prima cosa non dobbiamo mirare a su, ma dobbiamo mirare a giù Ok Perché giù c'è a stella appunto C'è appunto, giù c'è a stella appunto E con questo arriviamo a 7 stelline E a 12 stelline per battere Bowser Credo E non mi ricordo Ok, le otto molte rosse nell'isola fluttuante Ma per quanto io fottutamente adori questo gioco nel 64 Mi è piaciuta moltissimo anche il remake sul DS E' bellissimo Non è che potrebbero lasciare solamente Mario nel DS E non mettere anche altri personaggi che non c'entravano niente Ma non ci va bene così E lui alla fine è Mario Quindi se la puoi permettere Ok, qua c'è un'altra moneta rossa qui sopra Che molti se la dimenticano Quindi io raga, io me la prendo subito così non ci penso più E spero di far aumenta locale lì dove sono tutte le diamine di stella Ok Ok Eh vabbè la madonna quella che ho fatto di male Ok Ok perfettosi Siamo già sei e le ultime due appunto le togliamo su Un'isola fluttuante che vedremo adesso Ok Ok perfetto è qua Prima di noi dobbiamo battere questo cavolo di palo Per andare avanti e prendere le ultime due monete rosse Se magari non cado porca di quella cosa Mamma mia mi sto già incazzando raga Adesso non solamente inizio l'episodio vorrei dirvi Ok perfetto Ok perfetto Bene sono andato più che bene Questa stella non la rifarò mai più quindi O la prendo ora o non la prendo mai più Mmm Beh raga io ho tutte le monete rosse Se io le prendo una volta e poi non le prendo più perché basta mi dico Finalmente mi sono tolto con la stella Finalmente Ah no che con 8 stelle potevi battere Bowser Niente Adesso adesso mi sono regolato tutto amici miei Ma andiamo avanti Perché io non mi fermo mica signori miei autostelline del cavolo Andiamo avanti con la quinta stella Che è quella con il gufo maleretto che io odio Ehm Ma va bene così Ehm Premiamo A Ok quindi premiamo B per aggrapparci a lui Cioè A per aggrapparci a lui E B per lasciarci andare Ok Dai di me che la becco subito Come ho fatto non lo so ma va bene così Mmm Ok Sarà una cosa pensavo di metterci di più Invece ci ho messo anche di meno Perfetto Questa area raga ce la finiamo tanto ad un colpo appunto Perché è semplicissima raga la fortezza Womp E poi raga che la puoi fare tutta senza cappelli Quindi quello ti agevola un casino Sì sì bla 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 lo sappiamo cosa andiamo a fare Sì Invece raga non dobbiamo usare il gufo Perché il gufo non ci serve proprio un bel niente Perché dobbiamo Spaccare il muro Dobbiamo spaccare il muro che non è neanche questo Oggi lo dobbiamo perfetto a spaccare se vogliamo spaccare altro Ok Ok Vai qua Perfetto E Ok guarda lì da qua Proviamo di nuovo Forse è un po' più alto Ok Perfetto La mia vita è felice Ho usato anche questa stellina del cavo Ok Ok raga quindi anche questa qua ce la siamo portati a casa Porca miseria Porca miseria Porca miseria Ok grazie Bene così Bene così E anche questa area è finita Fortunatamente Ma no amici Noi non vogliamo complicarci la vita E quindi E quindi Sì Dovrei dirvelo ma Sì ok è vero faremo la strada delle 100 fottutissime monete Anche se io ve la taglierò tutta quindi ci vediamo dopo Signori mi sto per avvicinare al 100 Perfetto Abbiamo fatto anche la Abbiamo fatto anche la Sella delle 100 monete E raga ve l'ho tagliata perché sennò magari vi annoiate Quindi Vi voglio far vedere tutti quanti passaggi che faccio perché poi diventa annoioso Ok usciamo fuori Ok Ok si è attivato il Ah ok raga qua c'è la stellina quella del cappello volante Ok ce la togliamo di mezzo subito Così raga poi possiamo fare anche altro in questo episodio anche se No non credo raga ci facciamo questa stellina e poi chiudo anche questo episodio Ok Ok guarda Vabbè ne ho mancata una Adesso riesco a prendere quella ad un colpo Ed è tutto fortuna Come l'ho detto ci sono riuscita Vabbè raga perchè se proviamo al 64 ci so giocare Buon amore Attiviamo il cappello che non si riesce a me che non mi ricapiterà mai più questa cosa Quindi Attiviamo il cappello E nella prossima puntata quindi ragazzi finiremo la La prima Il primo quadro Finalmente Ma questo sono il prossimo episodio E ci vediamo nel prossimo video Bella a tutti E E E E E E E E